Orgoglio e pregiudizio, il virus in Montenegro, di Stefania Elena Carnemolla, giornalista. Il Montenegro, piccolo stato balcanico, stretto tra Croazia e Serbia, Kosovo e Albania, è stato tra gli ultimi al di qua dell'Adriatico, oltre che nel continente, a essere colpito dal virus. E quando si pensava che sarebbero stati gli italiani, ormai considerati gli untori d'Europa, a portarlo, sono stati invece i Montenegrini, complici vacanze in Spagna e negli Stati Uniti, dove il morbo girava già. Così il virus è arrivato a Podgorica, la capitale del Montenegro, dal 1947 al 1992, Titograd, la città di Tito, e a Ulzini, l'antica Dulcinio dei Veneziani, lungo la costa, ai confini con l'Albania. Entrato di nascosto, in silenzio, non dicendo niente a nessuno e trascorrendo piuttosto, allegre giornate tra amici e familiari, o tra variopinti matrimoni, cantando a squarciagola alla Balcanica, o brindando a racchia. Io infetto te, tu infetti me, tra un'acute e un cincin, perché tanto il virus sono gli italiani a portarlo. Chi vuoi che se ne accorga? Solo pochi giorni prima, le autorità montenegrine avevano bloccato i voli da e per l'Italia, cancellando con un tratto di penna Milano-Bologna e garantendo solo il collegamento con Roma, tanto che il 4 marzo, mentre il virus già infettava l'Italia, il ministro della difesa italiana Lorenzo Guerini era potuto atterrare a Podgorica, in visita ufficiale. Incontrandovi senza il pensiero di alcuna mascherina dall'una e dall'altra parte, il primo ministro Dusko Markovic e il presidente del Parlamento Ivan Brajovic e il ministro della difesa Predrag Boskovic. Chi scrive, invece, dovendo periodicamente rinnovare il timbro del passaporto, entrando e uscendo dal Montenegro e scegliendo come destinazione la vicina Trebigny nella Repubblica Sperzka in Bosnia-Herzegovina, poco lontano da Dubrovnik in Croazia, è riuscita ad attraversare le frontiere terrestri poco prima che venissero sigillate, anche se in parte insieme con quelle marittime. Un passaporto, solo perché italiano, guardato con sospetto entrando in Bosnia-Herzegovina e la notte del rientro in Montenegro, come se il virus avesse infettato i fogli per i timbri. Un solo passaporto nel mirino, non gli altri, che fossero serbi, turchi, albanesi, statunitensi, spagnoli, iracheni, di zone del mondo dove il virus c'era già. Pochi giorni dopo quella notte, profetiche erano state le mie parole a un poliziotto di frontiera. Il virus è entrato in Montenegro, portatovi da due montenegrine. Per un po' sono continuati i voli tranne che da e per l'Italia, con i montenegrini e qualche straniero, atterrati ora a Podgorizza, ora a Tivat, località della costiera delle Bocche di Cattaro, bloccati all'arrivo in aeroporto non dall'abbraccio festante di amici e parenti, ma da un piccolo esercito di ispettori sanitari ed epidemiologi, pronti a misurare la temperatura e a prendere informazioni. La sera in cui i montenegrini hanno saputo del virus, l'annuncio è stato solenne, con il primo ministro, Dusko Markovic, comparso in tv, scuro e in volto e circondato dalle autorità sanitarie, sapendo che il virus prima o poi sarebbe arrivato anche qua. Le autorità si erano preparate anzitempo, sin da gennaio. Con il virus in casa, primo passo, è stata la chiusura delle scuole, delle università, delle biblioteche, degli stadi, delle palestre, dei luoghi di ristoro, lasciando un po' di libertà, lavoro, farmacie, negozi di alimentari aperti fino alle 8 o alle 10 di sera, confidando nel buonsenso dei montenegrini. E dopo mesi, cosa che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al governo, sono scomparse dalle strade di tutto il Montenegro, causa emergenza sanitaria, le manifestazioni contro la legge sulla libertà religiosa, voluta dal governo, cosa che era sfociata in accese proteste di piazza per difendere le proprietà della chiesa ortodossa serba in Montenegro. Manifestazioni religiose e anche politiche, con il principale partito di opposizione, sobillato da ambienti russi e serbi, pronto a soffiare sul fuoco quel demokratski front, accusato con tanto di processo del tentativo di colpo di Stato del 2016, all'epoca delle elezioni di rinnovo del Parlamento, per rovesciare, anche uccidendolo, Milo Dukanovic, considerato il padre padrone del Montenegro, qualora con il suo DPS fosse uscito vittorioso dalle urne e facendogli così pagare anche il suo strizzare l'occhio alla Nato e a Bruxelles. A tradire i provvedimenti contro il virus sono stati per primi i capi religiosi, come quella volta in cui hanno chiamato a raccolta i fedeli per pregare tutti insieme l'uno accanto all'altra. E anche per i religiosi sono scattati gli arresti. Giorno dopo giorno, portato dai montenegrini atterrati a Potgorica o a Tivat o provenienti via terra, come dalla vicina Serbia, il morbo ha iniziato a diffondersi per il Montenegro, anche se non ovunque, e la paura ha iniziato a serpeggiare tra la popolazione. Una notte il governo ha ordinato la chiusura di Tuzzi, una municipalità poco vicino a Potgorica, inviando per strada esercito e polizia, perché lì c'era un focolaio, e inseguendo di giorno anche con droni ed elicotteri chi cercava di evadere. Il senso di indisciplina di molti ha costretto il governo a varare misure ancora più dure. Ad aprile, negozi di generi alimentari e farmaci hanno iniziato a chiudere alle sei di sera e il sabato a luna del pomeriggio, mentre alla quarantena si è aggiunto il coprifuoco. Ogni sera alle sette si chiudono porte e cancelli e gli elicotteri militari s'alzano in volo. È il segnale. Chi trasgredisce viene arrestato, così come chi diffonde fake news. Quasi ogni giorno atterrano in Montenegro aerei con aiuti sanitari degli altri paesi, in particolare dalla Cina, che qui sta costruendo un'autostrada. Il desiderio del Montenegro ora è solo uno, sconfiggere il virus e tornare in fretta alla normalità. Un desiderio legittimo, in un paese ancora economicamente debole, che vive in particolare di turismo. Nessuno sa quando finirà, ma il morbo una cosa l'ha insegnata, pensando a quel misto di orgoglio e pregiudizio che ha accompagnato la sua comparsa in Montenegro. Mai guardare la pagliuzza nell'occhio altrui, se poi non ci si accorge della trave nel proprio. La sera del 22 aprile, il governo montenegrino, con grande sorpresa dei cittadini, ha annunciato l'allentamento delle misure previste per arginare la diffusione del virus. La quarantena ci sarà sempre e anche il coprifuoco, questa volta dalle undici di sera alle cinque del mattino. E anche i negozi destinati al largo consumo potranno lavorare dalle sette del mattino alle dieci di sera. Un frammento di libertà conquistato passo dopo passo. E anche Tuzzi, diventata simbolo del focolaio montenegrino, è stata liberata dal marchio. L'allarme, tuttavia, rimarrà fino a quando il virus non sarà che un brutto, lontano, ricordo. L'allarme, tuttavia, rimarrà fino a quando il virus non sarà che un brutto, lontano, ricordo. L'allarme, tuttavia, rimarrà fino a quando il virus non sarà che un brutto, lontano, ricordo. La debranche, t показate sommare retro, lontano, ricordo. Lontano, cicato.